Restiamo sulla costa della Toscana, ma questa volta andiamo invece a Piombino. Il porto di Piombino è al centro di grandi investimenti che porteranno risorse, ma anche molti nuovi posti di lavoro, circa 200 all'interno di una delle aree che era stata investita da una crisi complessa, tecnicamente così si chiamano le crisi più gravi del mercato del lavoro. Il servizio. Nel giro di poco più di un anno il porto di Piombino ospiterà un polo di eccellenza nazionale dedicato alla demolizione e al refitting e alla realizzazione di navi, l'unico nel Mediterraneo che sarà conforme alle linee dell'Unione Europea. È stato sottoscritto in regione l'atto che dà in concessione alla Piombino Industrie Marittime per 40 anni le nuove aree portuali. Questo progetto darà lavoro a circa 200 persone che troveranno un impiego stabile. Gli investimenti della regione sul porto di Piombino sono stati 190 milioni di euro. La Piombino Industrie Marittime adesso potrà insediarsi nel porto e iniziare la costruzione di capannoni e strutture, avviando investimenti quantificabili in circa 14 milioni di euro. A Piombino abbiamo l'obiettivo di creare questo polo delle demolizioni a livello Mediterraneo, insomma diciamo seguendo le nuove normative europee, creare questo centro di eccellenza dove sviluppare questa attività, creare questo nuovo mercato. L'obiettivo della Piombino Industrie Marittime, composta dal cantiere genovese San Giorgio del Porto e dalla Livornese Fratelli Neri, è quello di iniziare a realizzare le infrastrutture nei primi mesi del 2017 e avviare le attività nella seconda metà del prossimo anno. La nuova infrastruttura partirà con l'attività per lo smaltimento di navi militari, previsto dall'accordo di programma per l'area di crisi industriale complessa.